National Geographic annuncia la sua collezione di N.A. Solo che c'è un problema, praticamente gli utenti, i lettori, si sono arrabbiati perché hanno detto ma come? Ma com'è possibile che alla fine voi di National Geographic facciate queste cose? E guardate che cosa hanno scritto. Allora, i messaggi che ha mandato sono tipo ma siamo sicuri che sia il momento giusto? Oh, guarda un altro ripulitore di soldi. Capiamo che quanto sono senza utilità e sono soprattutto legati al gioco d'azzardo. E poi quando hanno scritto recently definisci recently perché effettivamente sono leggerissimamente in ritardo. E infatti qualcun altro qua scrive, fammi ingrandire qua, dice You are a year too late. Tardo, perché queste cose si lanciavano così un anno fa. Ordinario che dice come è possibile che Nat e Geo, cioè non vi ricordate che siete Nat e Geo? Siete stati hackerati? Cioè di che cosa state facendo? Siete leggermente anetici? Ecco, questo è il problema quando si giustiscono male le operazioni.